Ok, dunque eccoci qua, metto a tutto schermo e voilà, magia. Allora, ciao a tutti. Guardando un po' i nomi le facce, penso molti di voi li conosco, però non tutti, quindi mi presento rapidamente. Mi chiamo Michele Orselli, lavoro per Flowing, dove faccio il software architect, programmatore. Spingo i tastini e faccio cambiare le luci nello schermo, ecco. Questa sera vi volevo parlare di un progettino che con altri baldi giovincelli stiamo portando avanti e come dal titolo dice serve un po' per testare decisioni architetturali. Non sarà una presentazione lunga quella di stasera, divisa fondamentalmente in due parti. La prima dove riprende un po' le fila del perché, quelle sono state le motivazioni che ci hanno portato a fare, a provare a sviluppare questo progettino. E poi ci sarà una breve demo. Vado subito con la presentazione. Un paio di anni fa, oramai, maggio 2020, quando, diciamo, subito dopo, forse ancora lo stava facendo, la gente cantava dai balconi, erano diventati tutti esperti di panificazione, alla ricerca del lievito nei supermercati durante il lockdown. È stata fatta una versione del PHP Day modificata rispetto al solito, Pug Edition, tutta online. In quell'edizione lì ho portato un talk che si chiamava, con un titolo molto breve, che rimane proprio in mente, Comunicare, condividere e mantenere decisioni architetturali nei team di sviluppo. Ah, approccio e strumenti. Ok. Lì, se volete, c'è la presentazione fatta a quel periodo. Questa è un po', vuole essere un po' la prosecuzione, scusate, di quella presentazione. Riprendo un attimo le fila. Partendo da questo, cosa vuol dire visione architetturale, visto che nel titolo la presentazione c'è? E prima di questo una premessa. Quando parlo di architettura in questa presentazione, diciamo in testa ho l'architettura di un'applicazione, di una singola applicazione. Quindi non sto pensando a architetture a microservizi, sistemi distribuiti, architetture, quelle che si chiama una volta enterprise, eccetera. Quindi per me, diciamo, il confine è l'architettura di una singola applicazione. Una definizione assolutamente imprecisa, però che secondo me descrive, dà una prima descrizione di quello che potrebbe essere un vincolo architetturale, l'architettura, è questa. Quindi un'architettura sono tutte quelle convenzioni e vincoli che descrivono come il codice, che dovrebbe essere, dovrebbe comportarsi. È, come dire, discretamente generico, in effetti. Quindi, provo a calarlo un po' più nel concreto. Per me le decisioni architetturali sono, diciamo, la somma di tutti questi pezzetti. Quindi sono lo stile architetturale che scegliamo di usare, faccio un esempio dopo per chiarirlo. Il framework, in realtà, ci detta, ci dice come impostare certe cose, quindi anche quello contribuisce a, diciamo, non necessariamente, però potrebbe contribuire a dare una forma all'architettura. Idem, librerie che utilizziamo, pure quelle potrebbero forzarci a fare le cose in un certo modo, più tutte le scelte che noi facciamo quando scriviamo il codice, fondamentalmente. Quindi tutto quello che, durante l'attività di coding, decidiamo di fare in un modo piuttosto che in un altro. Quindi per me queste sono, diciamo, tutte nel calderone delle decisioni architetturali. Faccio un esempio, un po' di esempi, per aiutare a chiarire quello che ho in mente. Implementare questa applicazione usando CQRS, per me è una scelta architetturale. Oh, badate che non, diciamo, non vado nel merito del giusto o sbagliato, qui non mi interessa assolutamente. È solo per dire, secondo me, prendere una decisione di questo tipo è una scelta architetturale. Quando vogliamo lavorare col tempo le date, all'interno della nostra applicazione, usiamo la nostra classe custom, fatta da noi, clock, orologio, al posto di la classe daytime di PHP. Questa è una decisione architetturale. Tutte le classi model dovrebbero implementare l'interfaccia serializable. Pure questa, secondo me, è una decisione architetturale. Tutte le classi repository dovrebbero stare in un namespace che si chiama app qualcosa repository qualcosa. Idem con patate rispetto a quello che ho detto sopra. Anche queste, per me, sono decisioni architetturali. Un'altra, altre due realtà. Le classi del framework possono dipendere dalle classi di dominio. E la duale, le classi di dominio, non devono dipendere dalle classi del framework. Quindi qui, diciamo, l'ipotesi è che abbiamo identificato una serie di classi che sono proprio il dominio della nostra applicazione. Abbiamo utilizzato un framework che ha per forza delle sue classi e ci interessa dire che la dipendenza deve essere solo in un verso e non nell'altro. Ok? Quindi, perché ci dovrebbe interessare, diciamo, tracciare, tenere conto di queste decisioni? Cioè, non possiamo fregarcene. Tanto sviluppiamo, se uno vuole vedere come le cose sono fatte, guarda il codice. Potremmo. La mia esperienza, però, quello che ho notato è questo. Innanzitutto non è facilissimo ricordarsi perché abbiamo deciso di fare una cosa in un certo modo. Soprattutto quando i progetti non sono piccolissimi e quando passa soprattutto il tempo. Ok? Aggiungo, oltre a doversi ricordare perché abbiamo scelto una certa strada, la roba che spesso invece assolutamente si dimentica è le altre strade che abbiamo valutato ma che non abbiamo preso. Ok? Quindi, dovevamo risolvere questo problema? Avevamo tre opzioni. Abbiamo usato uno e scartato due, tre per questo motivo. Quindi, in generale, secondo me, tracciare in qualche modo queste decisioni può essere anche una guida per chi arriva, per chi inizia a lavorare su una codebase nuova e che quindi, diciamo, un po' gli abbassa la barriera d'ingresso in questa codebase. A mio avviso, abilita anche a fare dei refactoring un po' sul lungo periodo. Quindi io so la direzione in cui voglio andare, questo in particolare quando hai una situazione di un certo tipo, decidi di fare un cambio, ok, sai che vuoi arrivare a un certo punto, il tenere traccia del perché l'hai deciso, ti abilita anche a fare refactoring sul lungo periodo. Ecco, in più un'altra cosa che ho notato e qui in realtà mi piacerebbe pure sapere se avete avuto esperienze simili pure voi, è questa cosa qui, pure sui progetti non molto lunghi, quindi non che hanno vita di anni, 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 pure molto più brevi. Non è facilissimo mantenere, cioè ci vuole un tot di energia a mantenere coerenza nella codebase, ok? Coerenza sia a livello di nomi, sia a livello di come organizzare il codice e anche quando si fanno magari cambiamenti, refactoring, il decidere di andare in una certa direzione non è facile comunicarlo a tutti, ecco, almeno questo è quello che ho notato io. Quindi questo secondo me è il motivo per cui ha senso dare traccia di queste decisioni. come si può fare? Due grandi strade, approcci manuali, ne cito un paio che ho ripreso dalla vecchia presentazione, nell'altra ci sono più dettagli, credo ci siano anche il video online, se vi interesso al limite poi mi contattate, vi do il link. Questo C4 model, diciamo, è un modo grafico per descrivere un'architettura software. Per chi di voi è un'università, ha studiato UML o se è interessato lo conosce, tipo UML senza cravatta, diciamo, un po' meno formale. UML definiva valanghe e valanghe di diagrammi, con una notazione particolare, molto, molto verboso, molto, molto anche formale. Ecco, C4 model, diciamo, cerca di tenere la parte buona senza tutta questa formalità. La roba che a me, come dire, mi ha sempre stuzzicato è il fatto che l'idea è di creare diversi schemi a diversi livelli di granularità, quindi come se uno facesse zoom in e zoom out sulla propria applicazione. Mini figurina che cerca di chiarire un po' di più, quattro livelli, l'ultimo è proprio il codice, quello più basso, andando indietro, componenti, quello che chiamano container e poi quello che chiama contesto. Il contesto è la cosa più ampia, quindi l'applicazione che stai sviluppando, il pezzo dell'applicazione, contenitori, macro blocchi, e ancora, andando più in basso, componenti. Mi rendo conto che è spiegato veloce, non è il punto fondamentale, era solo per darvi l'idea che, diciamo, esistono modi per descrivere in qualche modo le architetture, o almeno, una parte, uno schema dell'architettura, non tutte le decisioni in effetti architetturali che prendiamo. ok, carino il fatto che poi questa roba qui può essere anche tra virgolette codice, quindi si può scrivere anche come testo e non per forza dovendo passare da un, per forza da un editor. Altra cosa, arriviamo finalmente agli ADR del titolo, una cosa che in realtà è da un po' che è in giro, se vedete il secondo, il primo link lì sotto, 2011, primo post che parla di questa roba qui, quindi una decina d'anni, sono diventati di moda, credo, sicuramente un po' dopo. Quelli che si chiamano Architecture Decision Records. Che cosa sono? Sono fondamentalmente un documento scritto che ha come scopo quello di fotografare, di catturare una decisione incluso il contesto in cui questa decisione è stata presa e che conseguenze ha fondamentalmente. Dopo c'è un esempio più chiaro. Qui ci sono due link, il primo, quello diciamo storico, dove introduce questa cosa qui, il secondo, molto recente, in realtà, se vedete, del 2020, che invece diciamo riprende quel post e ci fa altri ragionamenti sopra. Molto, molto completo l'ho trovato questo, una bella rivisitazione. Se vi interessa l'argomento, dico su di leggervi entrambi, non sono dei post giganti, ecco. Oh, questo è un esempio di ADR, ok? c'è uno stato, un contesto, uno stato quindi che dice appunto a che punto della discussione è, quindi se è in discussione, se è stata accettata, se è stato scartato, eccetera. Il contesto in cui è stata presa questa decisione, la decisione stessa e le conseguenze di aver preso questa decisione. Quindi questo è un documento che fondamentalmente si stila a mano, banalmente, ecco. Poi nel tempo sono nate tutta una serie di tool che diciamo cercano di semplificare un po' la scrittura di questi documenti, la loro pubblicazione, eccetera. Di base si tratta comunque fondamentalmente di un lavoro prettamente manuale, ecco. Quindi questa coppiata qui a mio avviso funziona bene, lavorano a diversi livelli di granularità, C4 permette di andare abbastanza nei dettagli, ADR diciamo per come sono strutturati non mi aspetto che in un progetto ce ne siano valanghe, perché fondamentalmente poi diciamo essendo solo documenti scritti non c'è nulla che ti aiuti a fare in modo di verificare che poi quello che hai scritto si è davvero fatto. Quindi quando li ho visti usare erano per decisioni davvero macro, che avevano impatti davvero grossi, ecco. E quindi in quel caso diciamo fare dei check attraverso code review, eccetera, era era fattibile, ecco. Quindi finché ci sono non troppe regole, soprattutto a grana molto molto grossa, sono una strada insomma che ho visto percorrere, in realtà percorribile. Approcci automatizzati e poi dopo vi chiederei di rispondere al primo poll che è pronto su questo argomento qui. Non vado nel dettaglio anche su qui e anche su questo scusate riprendo un po' quello che avevo già detto in un'altra presentazione. Ad oggi fondamentalmente le strade sono queste. ti puoi fare delle soluzioni homemade diciamo usando degli script PHP Shell usando magari uno strumento come una libreria come Better Reflection cose di quel tipo. Ci sono tutta una serie di tool quelli che chiamano Sniffer o Fixer quindi PHP con Sniffer PHP CSFix Easy Coding Standard eccetera che nascono come appunto strumenti per diciamo imporre imporre vincoli suona manco vero cioè per correggere il codice non tanto la forma non tanto il contenuto ecco quindi per avere un coding standard uniforme possono in effetti anche diciamo è possibile scrivere quelli che chiamano Sniff aggiuntivi o Fix aggiuntivi che vanno a verificare magari certe regole sul codice sono poi la famiglia di tool di analisi statica nel CITO2 PHP Stan e PISALM nascono per scopi differenti possono essere in qualche modo estesi eppure qui un pochino forse si riescono a piegare a fare qualche verifica un tool a parte diciamo che fa una cosa sola molto specifica Deptrak che nasce appunto per verificare quali sono si concentra diciamo sulle dipendenze tra layer dell'applicazione quindi io definisco i miei layer come queste classi fanno parte del layer vista view queste classi fanno parte del layer modello model queste classi fanno parte del layer service e le metto e dico quali sono i vincoli posso dire che le classi di model non devono usare non devono dipendere da classi che appartengono al layer service cosa di questo tipo quindi è specifico per questa cosa qui che comunque è una bella fetta però non fa altro mi fermo un secondo e vi chiedo adesso quindi di voilà andare qua perfetto vi chiederei qualcuno ha già risposto se qualcuno di voi ha mai usato strumenti per controllare vincoli architetturali se sì quali mi do un un pochino di tempo per rispondere al momento DEPTRAC vince direi abbiamo un no mai usati molto volentieri farei potete essere risposte tre risposte separate credo no mai usati vince immagino che si è dato ciccione perché è quello che hanno risposto di più i progetti pa 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 ok ora vince no mai usati ok da tempo è DEPTRAC a usare me ok mi spiace diciamo ok static analyzer linters PHP CS PSAM ok PHP STAN beh qualcosa sì ok e le avete usati anche per controllare vincoli architetturali ok sì ci sta torno alla presentazione grazie per aver risposto diciamo quello che ho scoperto diciamo poi non è che fosse sta gran scoperta è questa cosa qui diciamo in generale i tool un po' li puoi configurare no quindi entro certi limiti puoi cercare di di utilizzarli per fare una cosa per cui esattamente non è che sono proprio nati cioè i CS fixer sono nati appunto per sistemare il codice in modo che si è indentato allo stesso modo eccetera eccetera parentesi cose così sì puoi anche volendo forse cercare di imporre qualche vincolo più dal punto di vista dal punto di convenzione di naming eccetera non è facilissimo idem per tool tipo php stampi salm eccetera poi tutti questi tool possono essere stesi solitamente non in maniera facilissima sia per il modo in cui si estendono ma soprattutto per la conoscenza che bisogna avere per farlo i cs fixer e parenti lavorano a un livello abbastanza bassino quindi vi danno proprio i mattoncini di php di tutte le singole parti del linguaggio quindi da lì riuscire a ricavare delle regole cioè ricostruire ricavare regole imporre vincoli per carità è fattibile non è facilissimo scrivere regole un pochino ci vuole idem la mia esperienza è stata simile con pisan php star estendibili sì però insomma non proprio facilissimo ecco quello che in realtà a me serviva quando ragionavo su queste robe qui quello su cui pensavo era ma mi interesserebbe esprimere un po' dei vincoli di questo tipo qui tipo io vorrei che tutte le classi che stanno in un certo in space abbiano una certa proprietà che ne so in questo caso abbiano il nome che finisce con data cose di questo tipo cioè quindi dato un insieme di classi prendere un sotto insieme che hanno una certa proprietà e verificare che rispettino certe condizioni questa era un po' l'idea quindi proprio sarebbe carino se sta roba qui diventasse codice fondamentalmente e qui era arrivato alla fine diciamo della presentazione del di oramai due anni fa un anno e mezzo fa incuriosito da questa cosa qui avevo iniziato a fare proprio un mini prototipo per vedere se sta roba era innanzitutto per capire se c'era qualcos'altro simile nel mondo PHP e poi effettivamente per vedere se se una cosa fosse di questo tipo fosse fattibile prima di andare avanti mi rifermo un altro secondo ci sono dubbi domande fino adesso vado qua giusto tac ok se avete le domande esatto grazie Giuseppe che ha messo il link in chat potete farle qui e mi fermerò qualche altra volta prima della fine ripeto se volete che non vengano registrate facciamo tutto alla fine altrimenti man mano diciamo se questo non vi turba scrivetele pure e rispondiamo al volo ecco torno di qua vi racconto un altro pezzetto e poi dopo torniamo alle domande vediamo se ci sono quelle da lì e diciamo a quel punto esisteva un prototipo che con grande fantasia avevo chiamato PHP Architect ispirato a un altro tool che si chiama ArcUnit che esiste in Java l'idea era principale di scrivere delle regole usando PHP quindi niente Yammer niente XML basta rotto PHP concentrarsi su la developer experience cioè che vuol dire che dovrebbe essere un per quanto possibile uno strumento intuitivo da utilizzare o che insomma non abbia una curva di ingresso troppo alta e che quindi possa essere non troppo difficile da installare configurare utilizzare proprio perché altri tool che ci sono è vero non nascono per fare quella roba lì però non sono non è proprio facilissimo estenderle lavorarci ovviamente ancora sotto grande sviluppo se vi interessa per caso sbanettare su un progetto open source siete i benvenuti e diciamo arrivati a questo punto diciamo non saremmo mai arrivati a sto punto qui se avessi fatto tutto da solo anche perché diciamo dopo il primo prototipo il mio entusiasmo iniziale era calato drasticamente forse perché sono molto pigro e per fortuna ne avevo parlato con altre persone che poi diciamo hanno dato una bella spinta hanno lavorato un sacco abbiamo lavorato un sacco assieme per riuscire a fare diciamo questa versione che prima release forse pure troppo chiamarla però insomma qualcosina che funziona c'è ecco e alcuni di loro sono pure qui quindi grazie le ringrazio pubblicamente oh come funziona e dopo saltiamo magari le domande l'idea è di scrivere una regola fatta in questo modo qui quindi partire da dire voglio che tutte le classi che ho selezionato poi farò vedere come le selezioniamo ci sono fondamentalmente tre metodi Z che serve a esprimere delle condizioni delle proprietà diciamo che hanno le classi should invece al contrario serve esprimere quelle che vogliamo siano i vincoli che questa classe rispetti because che because come diceva Franco negli anni 90 con la jalapas è in realtà solo una stringa descrittiva però obbligatoria perché sembrava interessante il fatto di forzare a scrivere a spiegare perché una certa regola è stata inserita ecco quindi fondamentalmente diciamo la regola è abbastanza leggibile quindi tutte le classi che in questo caso risiedono in uno di questi namespaces e lì ne ho passato solo uno app controller dovrebbero avere un nome che fa match con qualcosa controller diciamo perché vabbè è una convenzione di symphony e noi vogliamo mantenerla queste qui sono quelle che abbiamo chiamato con grande fantasia espressioni è abbastanza generico per cacciarci dentro qualsiasi concetto e descrivono appunto delle proprietà che vogliamo che le nostre classi abbiano la cosa interessante è che fondamentalmente sono intercambiabili cioè la stessa espressione have name matching può essere usata sia nella parte should che nella parte that ok per selezionare o diciamo specificare delle stringhe è possibile usare una sintassi tipo globe like ok quindi con fatta in questo modo qui per capirsi dove l'asterisco fa match con zero o più caratteri punto interrogativo fa match con esattamente un carattere il gruppo con le quadre abc fa match di o di qualsiasi carattere all'interno del gruppo e con punto escamativo davanti è il nota è la negazione perché questo è non le espressioni regolari sicuramente molto molto più potenti pure una palla in più da scrivere fondamentalmente beccare il primo colpo non è mai facilissimo quindi ci sembrava che questo potesse essere una sintassi più anche intuitiva da scrivere ok che espressioni ci sono per adesso queste qui quindi possiamo dire che una classe dipende da classi presenti in un namespace che estende o non estende un'altra classe che ha o non ha il nome che fa match con un certo pattern che implementa o non implementa un'interfaccia che non ha dipendenze al di fuori di un certo namespace e che risiede o non risiede in un certo namespace questo è mi fermo un secondo guardo se ci sono domande ok no domande so far va bene vi torna quello che vi ho raccontato ha senso potete pure parlare non succede niente a senso uno a senso due a senso tre ok vado avanti allora che regole possono essere imposte diciamo fino adesso fino ad ora tutta quella classe di regole che si banno sulla naming convention quindi vorrei dire tutte le classi che hanno questa proprietà qui dovrebbero avere un nome che fa match con un certo pattern oppure grande classico applicare dei vincoli ai vari layer applicativi quindi posso dire che non so il layer della vista non può usare il layer db direttamente oppure i controller le classi controller non possono usare direttamente i repository ok va bene se non avete dubbi domande faccio vedere una mini demo se non si è piantato tutto altrimenti non vi faccio vedere nulla eccoci qua continuate a vedere il mio schermo penso di sì allora qui ho fatto un'applicazione pure creare l'applicazione è pure troppo di esempio diciamo dove ho messo dentro un paio di quelli che si potrebbero chiamare contesti differenti quindi ho immaginato di avere due contesti catalogo catalogo prodotti e ordini quindi ho immaginato di avere una specie di e-commerce un po' monco in effetti perché solo con queste due cose la vedo dura però diciamo questo è e all'interno di ogni di ognuno di questi contesti ho definito tre tre parti applicazione dominio infrastruttura un po' diciamo alla architettura esagonale insomma o comunque cercando di separare un po' queste parti ecco ora non tutte le applicazioni chiaramente sono fatte così era solo per cercare di dare un po' di struttura e far vedere cosa si può fare con architect all'interno di application ci sono cose varie ho definito un servizio in particolare che in realtà non fa molto a parte essere creato in dominio ci sono i modelli e interfacce diciamo per accedere a questi modelli qui quindi un'interfaccia catalog repository che poi ha un'implementazione concreta nell'infrastruttura quindi il nostro doctrine catalog repository implementa catalog repository sempre nell'infrastruttura ci sono i controller ok anche questo non fanno molto ma ci sono intanto ci fanno vedere che esistono ok stesso discorso per order non c'è molta molta differenza ora io qui ho già installato php architect vabbè con un composer require niente di niente di particolare è possibile se diciamo architect litiga con dipendenza la vostra applicazione usare anche un altro approccio o installarlo via far oppure oppure come si come si vede adesso in alcune in alcune applicazioni creare una cartella tools dove dentro c'è un proprio composer json e poi da lì si installa in modo da avere conflitti con le dipendenze dell'applicazione ok come si scrive una regola intanto mi dicono che l'idea chiaro stona mi spiace lo so pensavo di farvi un favore a farlo così si vede che invece sono diventato vecchio io e sono ceccato quindi ho bisogno delle robe chiare allora si crea un file che con molta fantasia si chiama php architect allora solitamente nella root del progetto però poi in realtà da linea di comando ci si può dare il path del file quindi potete piastarlo fondamentalmente dove vi pare lanciando architect lui cerca quel file lì nella directory dove l'avete lanciato ecco quindi a meno che non avate esigenze particolari potete metterlo direttamente lì questo file contiene diciamo e dove andremo a definire le regole che vogliamo che vengano rispettate in questa applicazione come viene fatto anche qui come viene fatto in alcuni altri tool restituiamo una funzione statica che mangia una classe config ok e qui dentro andremo a inserire le regole allora da che regola vogliamo partire partiamone con una facile diciamo sul naming convention quindi con molta fantasia r1 ho una classe che si chiama rule che dovrò importare se no si offende ok quindi all classes qui abbiamo cercato di rendere comodo l'autocompletamento quindi fondamentalmente l'unico metodo che posso usare qui è that quindi tutte le classi che qui si aspetta una espressione new diciamo che voglio mettere un naming convention sui servizi su un servizio che abbiamo visto quindi tutto la roba che è dentro app catalog application service stringo un attimo così ok dovrebbe anche qui l'autocompletamento diciamo un po' mi guida quindi non posso ficcarci quello che mi pare potrei aggiungere o un'altra condizione con end z oppure una condizione con should diciamo new name matching ci aiutiamo con le wildcard service ok accorcio un po' questo perché abbiamo fatto sta regola perché vogliamo un naming uniforme ok a questo punto come faccio a fare eseguire questa regola architect devo prima decidere su quale insieme di classi voglio far girare questa regola qui per farlo si usa un'altra classe che abbiamo chiamato class set insieme di classi che viene costruita a partire da una directory fondamentalmente quindi qui gli passo dir anche qui lì dovrebbe essere mio amico un pochino mi aiuta mi dice vabbè probabilmente src anche qui per mia mania semplifico ecco quindi ora abbiamo i due pezzi che volevamo abbiamo da una parte le classi su cui vogliamo applicare queste regole qui questa regola qui e dall'altra la regola ora usiamo il nostro amico config che abbiamo passato lì e questo metodo ha due parametri o meglio un parametro un variadico quindi qui il class set e qui l'unica regola che ho definito quindi r1 quello che sto dicendo qui quindi è guarda applica questa regola qui a questo insieme di classi qua ok fino adesso ha senso ha senso 1 ha senso 2 ha senso 3 fa senso ok grazie Patrick ok adesso proviamo a frullare questa roba qui tool da linea di comando che si chiama con molta fantasia PHP Architect se lo lanciate senza vi sputa fuori un po' di roba il comando in realtà che vi interessa è check check ecco qua vi dice guarda sto analizzando questo insieme di classe ha frullato 100% non dice nulla se volete vedere qualcosina di più di cosa fare tra le quinte passando gli switch www vi dice qualcosina di più quindi vi dice sto passando questa classe questa classe questa classe questa questa ecc 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 ok per adesso quindi nessuna regola è stata violata facciamo finta che ho voglia di creare un nuovo servizio però lo chiamo banana servizio anzi servizio autori non so perché ho deciso di fare in italiano così una moto di di sfida ok ma papà servizio autori ora se tutto frulla giusto cioè se tutto gira abbiamo scritto la regola bene perfetto ve la faccio vedere senza www mi dice guarda occhio che il tuo la tua classe servizio autori viola la regola dovrebbe avere un nome che fa match con service ok quindi in questo modo si possono imporre diciamo naming convention su nomi eppure namespace ok dubbi domande vado al tab delle domande allora le leggo faccio da me Ale giusto ok vai vai domanda come consumo risorse potrebbe rientrare nella schiera dei papabili per degli hooks in precomit o è preferibile tenendo solo in pipeline action allora dunque noi l'abbiamo provato lo stiamo testando su codebase anche abbastanza grandi ciao Simone alla prossima grazie per essere venuto per aver ascoltato buona serata dicevo ma noi abbiamo provato su codebase anche abbastanza grandine e gira in tempi accettabili nell'ordine dei secondi ecco e considera che non c'è adesso ancora nessun meccanismo di caching cioè quindi proprio ad ogni giro tutta la codebase viene riparsata per ore e tempi noi li abbiamo sempre giudicati accettabili vero è che chiaramente lo stiamo testando quindi su più codebase riusciamo a provarli meglio meglio è ecco quindi per rispondere alla tua domanda ad oggi potrebbe pure essere potrebbe pure frullare direttamente anche in precomit ecco non solo sull'action poi oltre a controllare se i file corrispondono a certe regole avete pensato alla possibilità di creare i file che si basano su di esse no ammetto di no non ho capito esattamente la domanda cioè a partire da una regola produrre un file che diciamo che già la rispetti se è questa su hai inteso la domanda no io personalmente non ci avevo mai pensato però qui ci sono pure Patrick, Ale eccetera quindi boh forse loro sì io personalmente no non so se ho risposto alla domanda nel caso proviamo a rifare un altro giro ecco di spiega quindi tipo prendi un generatore suspense non so se intendesse un generatore ma forse qualcosa che venga creato praticamente un file venga creato con già i vincoli rispettati però ci sono vincoli che non puoi diciamo far rispettare senza la parte di codice perché va bene un conto è il nome del file ma un conto poi sono le dipendenze che ci sono al suo interno che ne vai a controllare una volta fatto tutto quindi non è solamente un discorso naming architect quello è un pezzo solo esatto quindi dopo farò vedere anche altri esempi di cosa si può verificare però diciamo la risposta secca alla domanda è no in effetti non ci avevamo non ci avevamo pensato nello sviluppo di PHP di PHP architect avete usato PHP architect ecco nel senso che come ho raccontato prima la versione proprio embrionale che era diciamo scritta da me è molto 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 peggio di questa era proprio un proof of concept quindi era un boh chissà se si può fare ecco dopo in effetti ci siamo detti più volte di volerlo usare è anche vero che allo stato attuale di questa codebase qui ci siamo resi conto che le regole che potevamo imporre non erano poi così tante ecco quindi abbiamo preferito provare a usarlo su altre codebase soprattutto che hanno delle dimensioni un po' più importanti di questa però in realtà è una roba che abbiamo discusso più volte e ogni tanto risalta fuori quindi per ora no però boh chissà magari complicandosi potrebbe avere avere molto senso usarlo ecco ok ci sono dei vincoli di base per poter far funzionare PHP Architect esempio necessario che il codice abbia standard PSRX ottima domanda Giuseppe dunque di base no nel senso il codice deve essere PHP aiutatemi 7.1 o superiore mi sembra però non c'è bisogno di standard e nient'altro sotto Architect usa PHP Parser la libreria quella di del buon Nikita e fondamentalmente non usa neanche l'autoloading cioè quindi quello che viene fatto è proprio un'analisi puramente non so come dire sintattica cioè quindi ti do questa directory qui lui si spazzola tutti i file di quella directory punto non cerca ad oggi diciamo non cerca di caricare file usando l'autoload eccetera questo chiaramente sia un vantaggio che uno svantaggio ecco però per il momento ci è sembrato abbastanza sensato farlo farlo così ecco quindi ti direi di no a parte la versione di PHP non ci sono vincoli particolari ecco ok ti ringrazio prego ok risalto di qua qua in realtà vi faccio vedere un'altra paio di regoline torno qui ok una cosa un po' diversa vediamo 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 sì beh una delle cose tipiche è quella di voler verificare se ci sono delle dipendenze tra layer dell'applicazione no quindi quello che dicevo prima dominio non non deve comunicare con non deve usare classi che dipendono da boh eccetera potremmo inventarci una regola fatta così qui abbiamo la nostra nostro trittico applicazione domain infrastructure io potrei dire che rule ho scritto bene magari tutte le classi che cosa facciamo risiedere uno di queste in space e ci ficchiamo app catalog domain o diciamo che queste io vorrei che non dipendessero da nessun altro no cioè il dominio deve deve giocare solo col dominio ecco quindi gli dico new should new not have dependency outside in space anche qui diciamo abbiamo cercato di impostare le robe le robe scusate giornata lunga inizia a essere stanco di rendere tutto autocompletabile ecco ciao Alessandro grazie alla prossima quindi qui dico non voglio che abbia dipendenze fuori da namespace se stesso quindi app app catalog domain perché domain should not have external dependencies aggiungo questa regola qua e lo faccio frullare o ha beccato una regola scusa ha beccato un problema app catalog domain catalog viola la regola non deve dipendere da questa roba qui riga 9 andiamo qua domain riga 9 e in effetti in questo metodo do staff un po' malandrino perché di staff qui ne fa poca della verità però va bene viene vignettato catalog service ok quindi in questo modo siamo riusciti a come dire beccare questa questa violazione delle regole che altro posso farvi vedere sì un'altra roba tipica sempre su questa roba dei livelli diciamo potremmo dire ora qui che è più esperto di architetture esagonali forse mi bacchetterà ma è per diciamo fini esemplificativi facciamo finta che application sto ragionando che application dipenda solo da domain non deve dipendere da infrastruttura deve dipendere solo da domain ok qui come al solito faccio un po' di potente copia e incolla app catalog application should new qui possiamo usare depends only on these namespaces e qui ci mettiamo anche qui accetterebbe un variadico quindi potrei specificare più di un namespace beh qui mi interessa specificarne uno catalog domain perché we love hexagonal arc inter tour idem con patate ecco qua vediamo pure qua ha beccato un'altra robina catalog service dipende doveva dipendere solo da domain andiamo a vedere catalog service catalog service deriva da doctrine dipende da doctrine catalog repository che in realtà sarebbe l'implementazione concreta del nostro catalog repository quindi magari qualcuno si è sbagliato l'ha iniettato per sbaglio non sapeva se era dimenticato che c'era catalog repository ok comunque qui l'ha beccato questo è mi stopo un secondo continua a avere ops continua a avere senso quello che vi sto raccontando vado nelle domandine non so perché le ricarico tanto voglio fare vedere live ok ultima cosa che vi vorrei far vedere adesso abbiamo lavorato sempre attorno a catalog nulla nulla vieta di mettere dei vincoli anche tra questi due diciamo bounded context forse è pure troppo diciamo due contesti differenti diciamo che per qualche motivo io non voglio che le classi di catalog e le classi di order si conoscano si parlano perché boh perché se domani voglio mettere tutto su un micro servizio fatto di tenerle separate a valore no avete mai sentito parlare di monolite modulare quando diciamo durante tutto l'hype dell'architettura microservizi spesso ci si è chiesti ma non è che stiamo a fare troppi microservizi non c'è un modo un po' più semplice per partire una roba che alcuni hanno consigliato di dire ma continuate ad avere un monolite però iniziate a ragionare come se lo voleste staccare quindi scrivetelo in maniera disaccoppiata ora non è facilissimo in realtà perché poi è facile farsi prendere la mano e mettere dipendenza una parte all'altra però questo potrebbe essere un modo per cercare di arginare un po' l'utilizzo di di parti delle codici dove non vogliamo anche qui vado ancora un po' magicamente di copia e incolla tutte le classi che risiedono risiedono uno di questi namespace e diciamo app order asterisco ok tutto quello che è qua dentro should e riuso questo che mi fa comodo in realtà si potrebbe esprimere in diversi modi questa regola ma vabbè diciamo basta che funzioni quindi qui sto dicendo guarda tutto quello che è dentro app order qualcosa può dipendere solo da da se stesso app order qualcosa perché we want to preserve context r4 aggiungiamo la regola sempre qua le facciamo frullare ok order controller sembra che violi la regola che ci siamo andati order controller in effetti usa il nostro amico catalog ok demo time finito concludo la presentazione e poi sarò molto molto breve siamo arrivati in fondo qual è il piano da qui in avanti ma continuare a testarlo con differenti code base e versioni PHP per migliorare le analisi le performance trovare più edge case eccetera vi ho fatto vedere anche per semplicità un caso solo cioè quello fondamentalmente in cui la dipendenza tra una classe e l'altra è data dal fatto che una è iniettata dentro l'altra non è l'unico tipo di dipendenza potrebbe essere distanziata direttamente richiamata tramite metodo statico eccetera eccetera l'architecto cerca di beccare tutte queste varianti chiaramente chiaro è che essendo anche PHP cambiato molto come linguaggio dalla sette spiccioli in avanti con sintassi differenti diciamo ci aspettiamo che siano altri edge case o semplicemente casi che non ci sono venuti in mente quindi l'idea è di continuare a fare test e prove aggiungere molte più espressioni che alla fine sono quelle che danno flessibilità e permettono di sia da una parte selezionare le classi che decidere quali vincoli imporre me ne sono inventate proprio di sana pianta due qui per dare un esempio di quello che cercare di spiegarvi quello che ho in mente una potrebbe essere selezionare le classi che hanno un metodo che si chiama così oppure date queste classi non voglio che abbiano dipendenze esterne rispetto a loro namespace cosa di questo tipo una cosa sicuramente su cui vogliamo lavorare migliorare il report degli errori quindi avere dettagli più specifici su dove c'è un certo errore qual è la classe che l'ha violato eccetera 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 ho visto prima una domanda nella chat non ho risposto perché ha risposto già Ale quindi grazie Ale in particolare lui sta lavorando a una action github per poter lanciare php architect direttamente queste diciamo le cose più vicine guardando anche un po' più in avanti e queste sono proprio ipotesi quindi assolutamente da approfondire fino adesso le regole sono state fatte sulle classi quindi io ho un insieme di classi voglio che queste soddisfino certe proprietà non le vieterebbe di ragionare anche sui metodi potrei dire che le classi repository devono avere un metodo store una roba di sto tipo qui senza per forza dover dover estendere un'interfaccia o cose esatto per darvi un'idea una roba che a me sgasa molto però non so in effetti quando sia realizzabile generare uno schema C4 quello che ho fatto vedere prima a partire dalle regole quindi ti do queste regole qui perfetto io ti faccio vedere come sarebbe lo schema di dipendenza tra i tuoi pacchetti chiaro non per tutte le regole in particolare per quelle che hanno che definiscono dipendenze tra parti dell'applicazione o al contrario dato uno schema C4 fatto in un certo modo io ti creo le regole che implementano i vincoli che hai definito in quello schema altra idea costruire delle API sopra queste che abbiamo ora per poter definire per poter avere concetti di più alto livello quindi che ne so il layer dell'applicazione quindi vorrei poter dire questa mia applicazione ha questo 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 layer e i vincoli sono questo questo quest'altro una cosa che già c'è in realtà e abbiamo tralasciato abbiamo messo un attimo da parte un po' per questione di effort e poi perché volevamo capire bene come incastrarla estensione per phpunit phpunit è un runner di test potrei scrivere i test architetturali come se fossero test phpunit in modo che così mi diciamo riutilizzo tutta l'infrastruttura di phpunit per lanciare i test reporting eccetera 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 ah ok qui ho fatto un doppione le vostre idee sono ben accette ecco anche qui se qualcuno ha voglia di buttarsi nella misca e contribuire ben ben volentieri su questo spendo proprio due parole due come ho detto prima ci farebbe comodo avere persone che hanno voglia di sperimentare architect e provarlo sul loro code base con persone di php differenti segnalare bug che sicuramente ci saranno vista la versione ancora molto molto giovane se avete voglia proporre miglioramenti e pure lavorare sulla documentazione che è una roba che insomma cerchiamo di tenere aggiornata ora è ancora abbastanza contenibile al crescere vedremo quindi diciamo nella lista di prima php architect si colloca lì tool di analisi statica fondamentalmente ha probabilmente delle aree di sorrapposizione con tutti gli altri però innanzitutto chi se ne frega a noi piaceva portare avanti questo progetto perché ci interessava ma poi pensiamo che diciamo lavorare sulla molto su come specificare le regole cercare di rendere la vita facile a chi lo usa insomma sia un valore raggiunto ultima cosa ultimissima full disclosure nel mentre stavamo sviluppando questo questo tool è in effetti saltato fuori un altro tool simile che si chiama php at che se volete eccolo php at che fa una cosa molto molto simile diciamo con un approccio un po' differente su come scrivere le regole come usare i selettori eccetera il risultato finale è simile penso che il modo in cui specificiamo le regole qui sia più facile da capire e da e da portare avanti ecco sotto diciamo all'euro di internals usa better reflection al posto di php parser per ricavare informazioni appunto da sulle classi e sul codice php fine sono stato bravino dai prima delle otto quindi ancora un orario onesto dunque se volete contattarmi mocchio sulla flowing punto it o su twitter sono underscore orso underscore ottima idea quella di scegliere un nick con due underscore uno davanti uno dietro facilissimo da scrivere lì c'è un link al repository di php architect che comunque su github è php architect quindi con la k altro probabilmente caricherò questa applicazione demo sempre su quell'organizzazione lì che in effetto è una roba che ancora non avevamo basta questo è il link del meetup del pug romagna e non c'è altro quindi esco da qui e vado di qua tanto grazie mille Michele ottima presentazione di live coding non banale come sempre nasconde sempre quel brivido se funziona o non funziona funzionerà si romperà proprio adesso quindi complimenti che non è una cosa così scontata ho visto che le domande non ce ne sono possiamo stoppare la registrazione perché non ce ne sono Grazie a tutti.